Ancora un incidente stradale mortale in Sicilia. La vittima è un giovane di 19 anni che è deceduto la scorsa notte mentre stava percorrendo con il suo scooter la provinciale 29 per Frangofonte, a pochi chilometri dall'ingresso di Scordia. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare finendo rovinosamente sull'asfalto.